Eccoci qua in questo nuovo video, oggi siamo qua, non c'era nessuna previsione di fare questo video, mi sono svegliato alle 6, alle 6 e mezza, mi è saltato il matto e ho detto ma perché non registrare questo video con questa nuova esperienza e quindi mi sono vestito in 10 minuti e sono sceso qua in questo bellissimo panorama e a fare l'intro del video e oggi è una giornatella un po' più particolare perché andremo a andare a correre in pista con mia mamma e quindi ho detto perché non condividerlo con voi, col mio canale e per chi non lo sapesse, anzi per tutti, mio papà non era sempre disposto a portarmi in moto e quindi mia mamma che era molto disponibile, di questo la ringrazio, ha fatto una scelta e ha deciso di andare a comprare un carrello portamoto e siamo andati a mettere il gancio di traino sulla macchina e a comprare il carrello e proprio quest'oggi andremo insieme e vi porteremo insieme a noi in questa nuova giornata con mia mamma e mi dispiace per voi che però dovrete sopportare mia mamma per tutta la giornata, nessuno mi ha sentito e niente, mi raccomando di seguire il video perché inoltre mia mamma diciamo che è molto imbranata andare col carretto e adesso sono le 7 e un quarto e senza perdere tanto tempo andiamo a caricare i vestiti nella macchina, andiamo a attaccare il carretto, a caricare la moto e dopo partiamo per l'ovolo, oggi tra l'altro è una giornata sì freschetta però è una bellissima giornata quindi io conto che venga su bel tempo se non c'è nient'altro da dire e godetevi il video e vi farò sentire anche i pareri di mia mamma a presto a presto eccoci qua siamo in macchina siamo ormai a 20 km dalla meta di albettone e intanto vi presento il mio compagno di viaggio che come vi ho già detto è mia mamma eccoci qua col carretto nuova avventura speriamo sia tutta dritta di non dover fare retromarcia perché avrei i miei grossi e seri problemi perché voi non lo sapete ma l'ultima volta che siamo andati a correre mia mamma facendo retromarcia ha sbattuto il carretto sulla macchina e quindi tutto dritta fino albettone esagerato uno striscetto eccoci qua siamo entrati in pista io mi sono già cambiato già vestito metto il casco e siamo pronti per andare in pista eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.